Sono ufficialmente iniziate le operazioni di montaggio delle telecamere di videosorveglianza in Villa Peripato a Taranto. Al momento ne sono state posizionate tre, che sorveglieranno l'ingresso monumentale e le aree circostanti. Ne saranno poi installate altre anche agli ingressi di Via Pitagora e Via Viola, più alcune in punti strategici all'interno dell'area verde, per un totale di una decina di telecamere, con l'obiettivo di sorvegliare la zona e renderla più sicura. Parte oggi l'installazione delle telecamere presso la Villa Peripato, grazie alla collaborazione con l'Istituto di Vigilanza Vis. Si tratta di un intervento necessario per garantire sia i cittadini e tutelare i cittadini, che vogliono godersi in tutto relax di questo angolo di città, e nello stesso tempo per preservare il patrimonio ambientale e storico. Come sapete l'amministrazione Melucci sta avviato tutti gli atti per procedere alla riqualificazione di quest'area, naturalmente conservandone l'identità, e proprio per questo l'installazione ci permetterà di salvaguardare questo patrimonio che abbiamo. Un monito quindi per gli incivili e i vandali. Da oggi abbiamo uno strumento in più e se saremo costretti lo utilizzeremo.